Ciao piccoli maghi, intanto complimenti, ho visto quanto siete diventati bravi e vorrei mostrarvi una cosa che facevo quando ero più o meno grande come voi, utilizzavo due elastici, mettevo quello giallo così e guardate, il giallo e il blu, al mio tre, uno, due e tre, e guardate come il giallo viene sparato e finisce dentro l'elastico blu. A presto e buon allenamento!